Ciao a tutti ragazzi, io sono Peppino Oh che intro incredibile ragazzi, madonna me l'ha fatta un tizio questa intro di nome Giocare secondo Dami Madonna, vi metto il canale in descrizione Vedetevela vedere, adesso iniziamo la partita incredibile su Agar.io Allora, Nick Peppino The best The best The best La best Peppino, madonna Adesso madonna mi va un po' laga Allora, l'obiettivo diciamo per questa partita incredibile è fare Berlusconi Oddio c'è Berlusconi Madonna ragazzi L'obiettivo per questa partita bellissima è arrivare primi E poi diventare terzi e poi diventare di nuovo primi perché noi siamo TOOG LIFE Non so cosa vuol dire però Madonna tutti nei video dicono TOOG LIFE pure stormy schifoso che odio perché mi ha fatto il video contro e allora dico anche io TOOG LIFE Perché comunque è di nuovo una cosa incredibile quindi sì Giusto così Allora madonna dobbiamo uccidere YouTube Agar.io? Vaffanculo Quello la YouTube Agar.io sicuramente stava registrato anche lui perché c'era scritto YouTube Eh madonna Cioè che cazzo di nome è YouTube Agar.io? Sei un pirla perché tu devi mettere il tuo nome Tipo io ho messo Oddio guarda Bubblegum bitch di merda Che ci vuole uccidere Ovunque voi dovete mettere il vostro nome Non dovete mettere Peppino Cioè non dovete mettere YouTube Che cazzo non gliene frega nessuno che state registrando hai capito? Solo se registra Peppino è importante Ecco questa è la verità Allora madonna Minha Peppino ancora non trova gente C'è Sealand Madonna No Berlusconi Sapete che Berlusconi madonna perché Ve l'ho detto che mio papà Cioè mia mamma lavora con Berlusconi Mio papà lavora con Renzi hai capito? C'è una Perché sono Polina Porco due Mi hanno mangiato Allora io scrivo Io scrivo Renzi Berlusconi Berlusconi No Berlusconi 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 Il personaggio più ambicuo della storia Madonna ragazzi Vabbè comunque vi sto dicendo i miei genitori lavorano la Parco Diesel Allora Mi lavorano la Miglia Renzi Minaccia tutti Parco Diesel Su Real Power Bastardo mi ha ucciso su Real Power Come osi Non ti sei accorto che c'è Peppino qui? Eh? Ma mamma ragazzi Stia pronti da Youtube Prima Stormy che mi fa i video Poi su Real Power che mi vuole uccidere E mi ha ucciso Eh? Allora Diciamo che non è una cosa bella Quella sdo sdo di merda Si deve fare mangiare da bublecune Cazzo E perchè sto dicendo Un po' di tante parolacce Non lo so ragazzi Perchè fa caldo oggi Fa un caldo assurdo E io volevo andare in spiaggia Però Mi mamma ha detto No Non puoi stare tutti i giorni in spiaggia Perchè se no la pelle ti brucia E allora devo stare qui In casa A A A fare Berlunrenzi Qua A fare i video Porca puttana E Madonna E che cos'è Io volevo andare in spiaggia Guarda adesso Vedo io se scappo di casa Vediamo un po' se Cioè madonna appena finisco sto video Io Prendo la bici Scappo E Vediamo un po' Vediamo un po' Ehm Come mi trattiene Perchè io voglio andare in spiaggia Vabbè mi son bruciata tutta la schiena E vabbè Si è spellata tutta la schiena Però Cioè madonna Non è che mi puoi tenere in casa Qua a fare i video Ehm Senza senso Hai capito Vabbè Voi siete contenti Perchè minghà Vedete un video di Peppeno Cioè Comunque è una cosa rara Cioè Una cosa Magnifica Cioè Molto meglio di andare in spiaggia A vederlo Però a farlo Cioè Non andare in spiaggia alla fine Perchè Madonna Cioè Che cazzo Cos'è Allora Per un Renzi Si sta ingrandendo Però Non trova mai gente da mangiare Quindi forse Prova a mangiare Reddit Sì Reddit Muori Schifosa Marcio Sì Berlurrenzi Mangia tutti Madonna Sì Però adesso se mi pigliano le palline Ehmile Uccidiamo Emilia Minchia la Merkel La Merkel Puttana Uccidiamo la puttana Yeah Minchia adesso mi censurano il video Madonna Non diciamo ste cose Cioè Anche se è una stronza schifosa Perchè povera Grecia Avete visto la Merkel Marcia Cosa ha fatta la Grecia Eh Madonna Cioè Una schifosa Marcia Bursolento Germania Guarda La Merkel È molto più piccola La Germania In realtà il suo culone È molto più grosso Diciamoci le cose come stanno Ecco Allora Madonna Devo mangiare tutte ste palline Adesso Berlù Renzi È diventato più grosso Ehm Cioè È normale Perché comunque Renzi È un leader politico Cioè È forte Porca puttana Estonia di merda Mamma Ragazzi Mamma mia Oh Estonia Oh Estonia Vatta un culo Che cazzo Poi dov'è sta Estonia Che paese è Cioè M***a L'ho sentito in giro Ma mi sa che è un paese Sei sconosciuto Di poveracci Cioè Allora Estonia Vatta Come vado a mangiare Berlù Renzi Cioè Madonna Ragazzi Cioè È Una cosa Oscena Allora It's Non mi mangiare Ti uccido Se mi mangi Hai capito? Ecco E impari Funghi 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 Ufff Ufff Ma guarda la Germania Come è grossa Oh Oh Via Via Mi stavo grattando il naso E E non riuscivo a girare Pubblico Beach Ah Beach è spiaggere Eh Sì Vi ricordate il primo video dove ho detto Povij un mito Ecco Quello da Andia Avevo imparato la parola da pochi giorni Oh Madonna Verlurenzi 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 Un'azione incredibile Upro team Upro team Upro team Non rompe il cazzo Oh Lasciamo in pace Lasciamo in pace Oh Verlurenzi No Ahahah Team Team di sto cazzo Muori Devi crepare Bulli Prendiamo Bulli Prendiamo Bulli Prendiamo Bulli Dai Prendiamo questi qua Prendiamo Aspetta aspetta Adesso li catturi in un modo Pamamam Pamamam Pamamamam 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 Distruzioni Una cosa Magnifica ragazzi Allora Amiglia Verlurenzi È diventato Non grossissimo Però Allora Io devo cazzo Devo arrivare Alla prima posizione Non mi interessa nulla Nulla E che cos'è Oh Unisciti Madonna Verlurenzi Andina nelle trappole Tutti E Madonna Oh Che è qualcosa rosa Ciganterrimo 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 Oddio David Selena David Selena Ti uccido David Selena Cos'è dolce gabbana Oh Oh Non copiare i marchi Famosi Eh Questo è plagio Questa è copiatura Copiatura Si chiama Ma Crap out Crap out Dobbiamo uccidere crap out Eh ma è troppo grosso Flipi happy Uccidilo Uccidilo Minchia adesso me lo mangio Aspetta aspetta Dai bastardo Mi ha inculato In modo incredibile Pacman 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 è morto Oh Il portogallo Il portogallo Il portogallo Ippie queste le possono capire solo gente intelligente Capito? Quinte intelligente Come pepino Ma Totino rompe Va a cagare Aspetta 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 Mangia 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 Si 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 Quindi adesso allontaniamoci che sto Loris ci fa il culo Mamma mia ragazzi Berlorenzi sta facendo punteggio in un re di qui In una maniera che non si è mai vista nell'umana terrenità Oh, Krapau si è diviso, forse riesco a rubargli una pallina Aspetta, aspetta, aspetta Krapau Non ti riunire, ti uccido se ti riunisci Non, 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 bastardo Vabbè ragazzi, c'è, madonna, è impossibile arrivare al primo posto Vabbè, parca pittanella Eva Scusate, troppe parlacce, però oggi sono incazzato perché non sono andati in spiaggia Vabbè, ragazzi, lasciate mi piace a questo video incredibile E commentate a questo video incredibile Ciao a tutti Bella da Peppino vi vuole un po' bene Però ricordatevi che Ciao a tutti